Sabato 25 giugno 2016 siamo a Capanne e siamo riusciti, Presidente, ad inaugurare questa splendida Aria Verde proprio grazie al lavoro della Proloco di Capanne. E' con noi il Presidente. Buonasera, oggi inauguriamo il frutto dei lavori che sono iniziati l'anno scorso e che riguardano il completamento dell'area verde della nostra Proloco, consistente nel nuovo bar, nei nuovi spogliatoi, nei bagni e servizi igienici. E' di quest'area verde che vedete alle mie spalle e anche a completamento di tutto ciò un monumento voluto fortemente dal popolo di Capanne a memoria dei caduti eredici delle grandi guerre. Tutto questo è frutto del nostro lavoro, della nostra associazione, quindi dei nostri collaboratori che ogni anno prestano la propria opera nelle nostre iniziative dai frutti delle quali ricaviamo il necessario per fare questo. Quindi l'augurio che noi facciamo è quello ogni anno di abbellire, di incrementare quest'area per renderla sempre più fruibile ai nostri paesani e non solo, a chiunque volesse approfittarne. Elisabetta Trovati è il Presidente della Proloco Capanne. E io volevo aggiungere una cosa, Presidentessa. Il lavoro suo ovviamente ha la necessità di avere al fianco dei personaggi un consiglio grandissimo e fra questi abbiamo Sauro. Sì, Sauro Mencaroni è un consigliere della nostra Proloco, è un consiglio composto da 12 membri e passiamo la parola a Sauro perché lui è stato uno dei promotori di questa scultura e quindi gradirei che ne parlasse anche lui. Un personaggio molto importante per la Proloco di Capanne ma non solo per la Proloco ma anche per lo sport Umbro e non solo, no Sauro? Sì, ringrazio di questo. Sì, indubbiamente sono impegnato in prima persona con l'atletica, l'atletica leggera, abbiamo una squadra assoluta, partiamo dai piccolini fino ai grandi, abbiamo tutte le categorie e la squadra assoluta che in Umbria seconda solo alla Libertà Sorvieta. Anche quest'anno torneremo alla finale nazionale il 25 settembre, siamo quarantesimi in Italia, insomma, un paese come Capanne rispetto a città, molto grosse, credo che abbiamo fatto un gran lavoro. Comunque, per quanto riguarda il monumento del Capanne, è un paese che non c'è manco la Chiesa, è un di pochissimi, forse l'unico paese che non c'è neanche la Chiesa. Allora ho detto, anche per lo scorso anno, che erano i cent'anni, l'entrata in guerra della prima guerra mondiale, la guerra proprio è stata tremenda perché al di là di tutto l'abbiamo anche vinta, ma con 600.000 morti. Io ricordo quelli che mi ricordavano il mio nonno, il mio babbo ancora, no che era piccolo, però insomma, soprattutto il mio nonno, cioè contadini, questa zona era tutta contadini, contadini presi e che ne erano mai manco andati a Perugia, e quindi presi e portati al fronte, cioè in memoria di quelli, infatti io ci ho voluto mettere, non solo caduti, ma anche reduci, perché anche quelli che sono tornati tutta la vita magari ci hanno avuto questa esperienza, insomma. Pertanto era doveroso, secondo me, un paese come Capanni di avere almeno un monumento che ricordasse, sì, quei caduti principalmente della prima guerra mondiale, ma di tutte le guerre, insomma, perché le guerre non dovrebbero esistere mai, ma purtroppo ancora continuano a esserci, speriamo che non ce ne siano più, ma... Un'area verde, Presidente, posso dirlo a 5 stelle, e grazie, oltre che l'area verde meravigliosa, avete fatto un'inaugurazione, che non capita a molti, di avere due comuni che partecipano a un'inaugurazione, no? Sì, di questo ringrazio le istituzioni presenti sia del Comune di Corciano che del Comune di Perugia, perché effettivamente Capanne è ufficialmente sotto il Comune di Perugia, però è lambita dal Comune di Corciano perché parte della nuova area di Capanne è sotto il Comune di Corciano. Questi due comuni collaborano da sempre per il nostro Paese, quindi ci sembrava doveroso che fossero presenti entrambi. Quest'area, sì, è un'area importante, però, ripeto, verrà completata negli anni prossimi, perché il nostro lavoro non si ferma oggi, ma va avanti di anno in anno. Sentiamo il Vice Sindaco di Corciano. Grazie Vice Sindaco della sua presenza. Sì, io porto il saluto ovviamente dall'amministrazione di Corciano che guarda con grande attenzione a tutte quelle situazioni in cui associazioni, quindi volontari, in buona sostanza, si mettono a disposizione e danno concretamente aiuto alle amministrazioni nel gestire aree, nel gestire prossime di territorio, nell'investire anche in prossime di territorio. Poco fa ho detto che effettivamente viviamo in un contesto in cui le amministrazioni hanno sempre meno risorse, per cui occorre trovare soluzioni nuove per affrontare problemi che affondano le radici nel passato. Sicuramente in una logica di sussidiarietà poter contare sulle forze, sulla disponibilità dei cittadini organizzati nell'associazione consente all'amministrazione di poter continuare a svolgere in maniera efficace il loro compito, partendo da un presupposto che da soli forse si va più veloci, ma insieme si va più lontano. E a me pare che gli orizzonti che questa associazione sta delineando attraverso un impegno concreto sono importanti e significativi. Andiamo molto oltre l'anno, secondo me. Quindi complimenti e in bocca al lupo per tutto. Allora, da un comune, quello di Corciano al comune di Perugia, Emanuele Presco, assessore allo sport e non solo, no? Sì. No, obiettivamente la realtà di Capanna è una realtà importante, di grande generosità. Quello che la Proloco mette a disposizione della collettività ogni anno è sempre una novità. Basta guardarsi intorno, le immagini lo dimostrano. C'è la volontà di costruire una comunità. Per costruire una comunità serve sapere da dove veniamo. E quindi è corretto, è giusto in quest'area verde ricordare coloro i quali con la propria vita, con il loro sacrificio, come ha detto prima anche Sauro Mencaroni, anche i reduci che comunque hanno portato i segni mentali o fisici di quelle guerre. Siamo arrivati ad essere quello che siamo, una nazione libera, una nazione che ha ancora la prospettiva di rilanciare per il futuro. Io da parte mia colgo l'occasione per salutare due grandi sindaci e due grandi giunte comunali, che lo diciamo senza mezze frasi, perché onestamente quello che stanno facendo sia Cristian Betti, che il sindaco di Perugia, Andrea Romilzi, è una cosa unica. E veramente inviterei tutti ad applaudire finalmente veramente delle persone serie che guidano la nostra struttura. Poi Corciano e Perugia che sono proprio parallelamente attaccate, è un'unica area. Io dico questo, dico bene vice sindaco? Beh sicuramente è ora di superare le logiche dei soli campanili, perché al di là ovviamente dell'importanza di Perugia, ma alcune questioni, lo vediamo anche con le regioni, che alcune questioni devono essere affrontate in una logica d'area vasta, quindi le non necessarie questioni come la sanità e le infrastrutture non possono essere affrontate solamente da l'Umbra. Occorre mettere assieme i prossimi territori e i cittadini ancora più importanti, le Marche, si parla della Toscana. Al di là del dibattito sulle macro regioni, occorre mettere assieme risorse, energie e competenze. E in questa logica anche le amministrazioni non possono continuare a guardare esclusivamente ciò che accade all'interno dei loro confini. Devono raccordarsi con quello che sta attorno, proprio per garantire la possibilità di offrire ai loro cittadini un servizio migliore, che alla fine deve essere il compito e l'obiettivo di ciascuna amministrazione, di qualsiasi colore sia. Io ringrazio il Presidente Elisabetta Trovati del Prologo di Capane, che mi ha permesso di stare insieme a due grandi personaggi e due grandi comuni, come dicevo prima Elisabetta. Grazie a lei di nuovo per essere stato presente oggi, quindi per averci dato la possibilità di dare un carattere un pochino più importante a questa manifestazione, perché comunque noi ci tenevamo particolarmente, perché ripeto è un progetto che dura da anni e quindi che oggi volevamo ufficializzare in maniera un pochino più importante. Quindi grazie per essere intervenuto, grazie di nuovo alle istituzioni che hanno partecipato. Facciamo un saluto anche alla banda di Bagnaia, perché l'abbiamo messa nel sito. Ovviamente Bagnaia è molto importante per Capane, no? A nostra volta Capane è sotto Bagnaia, diciamo. Quindi la nostra parrocchia, come diceva prima Sauro, noi abbiamo una chiesa, ma la nostra parrocchia è Bagnaia. Quindi sentivamo doveroso anche il coinvolgimento del paese accanto e lo abbiamo fatto invitando la società filarmonica di Bagnaia, che gentilmente è intervenuta e ha ancora reso più solenne questo momento. Ricordiamo che da venerdì prossimo, il primo luglio, fino a domenica 10, avremo la sagra della 39esima, saga edizione della Sagra della Granocchia. Sì, è giunta la 39esima edizione della nostra sagra, che poi proseguiremo, perché come ho detto in precedenza, noi ne facciamo due, anche a settembre, dal 26 agosto al 4 settembre con Umbricelli e Sport. Quindi a tutto tondo, dallo Sport agli Umbricelli all'area verde, cerchiamo di essere completi. Allora, se mi permettete, noi salutiamo qui dall'area verde di Capanne. Sauro, chiudiamo, concludiamo con le splendide note della banda musicale di Bagnaia. Gli amici, a voi la parola. Anzi, a voi le note. Sì.